Il reality media set condotto da Ilari Blasi e da Alfonso Signorini sta giungendo al termine Dopo le prime due edizioni vinte da Alessia Macari e Daniele Bossari chi sarà il vincitore di questa edizione? In gara al momento sono rimasti lo chef Andrea Mainardi, la conduttrice TV e attrice Benedetta Mazza, Francesco Monte, la cantante delle Donatella Silvia Provedi, il modello Stefano Sala, e Walter Nudo Vincitore grande fratello VIP, ecco i favoriti. Basandoci sui trend dei social di queste settimane e su diverse inchieste in merito emergono senza dubbi alcuni personaggi più favoriti di altri, fatto salvo che poi nel giorno della finale tutto possa comunque cambiare anche perché in questi giorni potrebbero ancora accadere cose che fanno modificare l'opinione della gente e degli spettatori Tra i favoriti mettiamo in cima lo chef Andrea Mainardi. Per molti spettatori si tratta del concorrente più sincero e genuino ed inoltre è dalla sua di essere solo fino ad un certo punto parte del mondo dello spettacolo dato che il suo lavoro principale è un altro Insieme a Mainardi troviamo Walter Nudo. L'ex modello ormai navigato partecipante dei reality televisivi è molto amato dal pubblico ed è riuscito nella straordinaria impresa di non litigare praticamente con nessuno all'interno della casa del grande fratello Silvia provvede invece dalla sua grande tenacia dimostrata in più frangenti di questo percorso Inoltre anche lei è molto apprezzata dal pubblico. Infine c'è Stefano Sala, con lui potrebbe vincere il tipico ragazzo per bene che è riuscito a gestire al meglio l'amicizia con Dasha senza mai andare oltre per rispetto alla sua fidanzata Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like